Benvenuti alla videorecensione del Samsung PowerBot VR7000 Star Wars Special Edition, un robot aspirapolvere appartenente a una fascia di prezzo alta. Questo modello si distingue soprattutto per due aspetti. La sua forma rievoca uno dei personaggi più famosi della saga Star Wars, Darth Fener, mentre dal punto di vista tecnico è dotato di un sensore ottico full view sensor 2.0 che scansiona e individua gli ostacoli e gli angoli della stanza, e di una telecamera digitale in grado di creare una mappa completa della casa. Se dopo aver visto questo video doveste essere interessati ad acquistarlo, su questa pagina trovate il link all'offerta. Per valutare le prestazioni di questo robot aspirapolvere lo abbiamo testato riproducendo alcune situazioni comuni che possono avvenire nel corso delle pulizie domestiche. Il primo aspetto che abbiamo valutato riguarda la capacità di superare gli ostacoli e in modo particolare i tappeti. Come potete vedere questo apparecchio riesce a oltrepassare abbastanza agevolmente un tappeto spesso meno di un centimetro. Abbiamo tuttavia riscontrato grandi difficoltà nel caso di tappeti con le frange. Queste ultime si impigliano nella spazzola rotante e impediscono al robot di proseguire. Segnaliamo che il Samsung PowerBot VR7000 Star Wars Special Edition è dotato della funzione PowerControl, attraverso la quale il robot può rilevare il tipo di superficie, in questo caso un tappeto, e produrre la potenza di aspirazione più adatta per una pulizia ottimale. La seconda parte della nostra prova si è concentrata sulla capacità del robot di rilevare il battiscopa e di pulire nell'area a esso adiacente. Il risultato ottenuto è stato a nostro avviso positivo, sia per la pulizia del battiscopa che per quella degli angoli. Il Samsung PowerBot pulisce in modo efficace, passando diverse volte sullo stesso punto. Passiamo ora alle modalità e alle funzioni che il robot mette a disposizione dell'utente. Innanzitutto occorre dire che questo modello, essendo dedicato a Darth Hanner, riproduce suoni e frasi del celebre personaggio. Questo modello dispone di un telecomando che permette il controllo da remoto e consente di muovere direttamente l'apparecchio nella direzione preferita. Sul telecomando si trovano inoltre i tasti Spot, per effettuare una pulizia in una determinata area, Sound per attivare e disattivare l'audio del robot, Schedule per programmare il lavoro dell'apparecchio, Clock per impostare l'orologio. Nella parte superiore si può selezionare la potenza di aspirazione desiderata. Il tasto Repeat serve invece per ripetere la pulizia finché la batteria non è scarica, mentre quello Remote per abilitare e disabilitare il Wi-Fi. Premendo il pulsante celeste in alto, il robot torna alla base di ricarica. Questo modello può essere associato a una specifica app per smartphone che permette di pianificare e monitorare il lavoro. Utilizzando uno smartphone non Samsung, l'applicazione non ha tuttavia consentito l'accesso a alcune funzioni e ha mostrato difficoltà di funzionamento. Positivo invece il nostro giudizio riguardo al serbatoio di questo robot aspirapolvere e alla facilità con cui si effettua la manutenzione. Per rimuovere il serbatoio è sufficiente premere il tasto collocato sulla parte superiore del dispositivo. Semplice è anche la rimozione del filtro, facilitata da una linguetta che permette di effettuare l'operazione senza sporcarsi le mani. Possiamo quindi concludere che il Samsung Powerboat VR7000 Star Wars Special Edition è un robot aspirapolvere indicato per i fan della saga Star Wars che desidera un nuovo modello di fascia alta, con un'ottima capacità di mappare il proprio appartamento e pulire in profondità diversi tipi di superficie. Grazie per aver seguito questa video recensione, alla prossima, ciao!